Dieci e lode. La città di Margherita di Savoia ottiene una stella blu da porre sulla bandiera degli scudetti del mare, indossando la maglia da trequartista nel campo della sesta provincia pugliese. La cerimonia dell'alza bandiera si è tenuta all'ingresso del lungomare e ha visto la partecipazione di numerosissime autorità del territorio locale, regionale e i sindaci di Biceglie, Vieste e Leporano che condividono il riconoscimento con Margherita. Un momento di condivisione importante che dà merito agli investimenti fatti in questi anni che portano ad avere una spiaggia attenta all'ecologia, all'ambiente, alla sostenibilità e che vede la presenza di 76 stabilimenti balneari e oltre 20.000 ombrelloni con un servizio di salvamento che presidia ben 4 chilometri di costa. Non è facile mantenere il requisito della bandiera Bru per tante caratteristiche che vengono imposte dalla FEA ai fini del rilascio, soprattutto la qualità delle acque balneari, la spiaggia, la pulizia, i servizi di arredo urbano, l'ospitalità, le attività ricettive. Ci hanno riconosciuto tantissimi requisiti, compreso quello che ci è stato concesso per le acque di balneazione, le tre stelle blu. Per cui diciamo sostanzialmente siamo felicissimi di questo traguardo. Notiamo che stiamo crescendo anche in livello turistico, abbiamo presentato, domani presenteremo un cartellone estivo di alta qualità e la cosa che voglio sottolineare è che a differenza degli altri anni finalmente c'è investimento in attività ricettive qualificate. Stiamo facendo degli investimenti per qualificare maggiormente il nostro turismo, ma stiamo puntando soprattutto sull'aspetto culturale. La decima bandiera blu segna un momento di svolta, un vessillo che si ottiene dopo anni di lavoro e indica un percorso consolidato per il territorio che mira sempre di più a far rete tra istituzioni pubbliche e private, cittadini e operatori turistici per accreditarsi sempre come eccellenza a livello nazionale. Oramai la bandiera blu è un simbolo riconosciuto non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, sinonimo di grande qualità pulizia delle acque e questo è un riconoscimento importante che certamente aiuta anche ad attirare i turisti e un grande orgoglio nazionale. Questa zona ha avuto un grandissimo sviluppo, soprattutto gli ultimi dieci anni hanno visto i numeri impennarsi e certamente è cambiata anche la forma di ricettività, ci sono sempre più forme extra alberghiere, alberghi invece hanno investito in qualità quindi sono in grado anche di intercettare un'offerta, proporre un'offerta, intercettare un'utenza diversa, anche più con maggiori capacità di spesa e questo è un elemento per il territorio importantissimo perché significa generare sempre più occupazione ed economia.